Potente a parlare ragazzi, qua Vax, l'ho già mica, oggi sono al sole e sono qui a presentarvi un nuovo video Che ragazzi è un nuovo video stratattico, perchè infatti oggi sono qui a presentarvi un tutorial Questo tutorial che cosa vi spiegherà? Vi spiegherà come segnare da calcio d'angolo, come segnare su calcio d'angolo Utilizzando gli schemi, perchè bene si ragazzi, l'ultimo video appunto riguardante gli schemi l'avevo fatto ad aprile del 2013 su FIFA 13 E ho detto, e no, e no, e no, dobbiamo farne uno, almeno uno su FIFA 14 E ho utilizzato questo giorno appunto perchè non volendo, se vi ricordate ieri vi avevo detto che appunto la mia scaletta, il mio calendario qual era Caricarvi oggi il bing pal, domani il piscitella e l'uno del video speciale Solamente ho detto, è un po' sprecato caricare il piscitella prima del video speciale, è un po' sprecato tenerlo solamente un giorno E quindi ho detto, ma dobbiamo fare qualcos'altro, quindi eccoci qua a presentarvi questo tutorial sugli schemi O meglio, su come utilizzare uno schema per andare a segnare da calcio d'angolo Allora ragazzi, innanzitutto come creare uno schema? Bisogna andare nel menu principale, andare su gioca, poi probabilità Dove c'è probabilità dovrete muovere l'analogico destro verso destra In questo modo accederete, se possiamo così definirla, all'arena allenamento Una volta ad essere andate sull'arena allenamento schiacciate start, crea schema e selezionerete la regione interessata Che in questo caso è quella relativa al calcio d'angolo Una volta fatto ciò ragazzi, è semplicissimo, dovete solamente copiare ciò che io sto facendo Gli stessi movimenti che appunto io vi sto proponendo, voi li dovete copiare e farli fare diciamo sulla vostra squadra predefinita dell'arena In questo caso io sto utilizzando il Real Madrid Ma in che cosa consiste questo schema? Praticamente ragazzi, noi libereremo un giocatore che andrà tranquillamente a segnare, a tirare dopo aver ricevuto un passaggio da un uomo vicino al calcio d'angolo Quindi come facciamo a liberarlo? Come facciamo a farlo smarcare da Dio? Bisogna ovviamente toglierli, in toglierli dalle palle, i difensori avversari E come faremo a toglierli? Li faremo marcare altri nostri giocatori che andando verso fuori la... cioè cercando di liberarsi andranno fuori dall'area Oppure in una parte che diciamo non ci interessa dell'area In questo modo libereranno una regione, la puli, la spazzeranno Ci sarà una regione spazzata, quindi vuota se possiamo così definirla dell'area Che appunto sarà quella zona che il nostro giocatore sfrutterà per andare a segnare Allora come liberarla innanzitutto? Io vi ridico che vi basterà copiare i movimenti, quindi se non sono molto preciso sapete il motivo Però praticamente voi dovrete avere 4 giocatori in mezzo all'area Ne farete spostare 2 verso l'esterno Uno verso la parte opposta da dove avete battuto il corner E uno andrà verso la porta ma un po' più all'esterno In questo caso io stavo utilizzando Chedira Questo perché? Allora ragazzi in questo modo ovviamente una parte dell'area sarà vuota Ed è quella parte che come ho già detto sfrutterete con il giocatore che andrà a tirare Nel mio caso Cristiano Ronaldo E poi ragazzi quel giocatore che andrà sì verso la porta ma poi si sposterà verso l'esterno Sarà in grado di segnare nel caso in cui il portiere respingesse la palla Quindi c'è un ambiguo ragionamento dietro E poi ragazzi innanzitutto che giocatore consiglio di far tirare? Innanzitutto io utilizzo questi schemi per l'ultimate team Quindi il giocatore che andrà a tirare sarà il giocatore corrispondente al vostro giocatore della squadra dell'ultimate team In che senso? So che non si è capito niente Però vi faccio un esempio Io in questo caso utilizzavo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo fa la fascia Quindi se io utilizzassi questo schema nell'ultimate team Andrebbe a tirare la mia fascia Quindi se volete far battere un attaccante Ovviamente dovrete mandare a tirare l'attaccante della vostra squadra predefinita Quindi nel mio caso Benzema Poi ragazzi io vi consiglio soprattutto di utilizzare un giocatore con 5 stelle di abilità Anche nell'ultimate team Come magari Ronaldo ma anche Tarap E poi ragazzi potete far tirare anche un mancino Allora come mai vi dico far tirare anche un mancino Perché se voi dopo aver passato la palla al giocatore vicino al calcio d'angolo Che a sua volta con un filtrante la passerà al giocatore che andrà a tirare Se voi tirerete di prima questo giocatore la tirerà di sinistro Quindi ecco qua Se volete far tirare un sinistro dovrete tirarla di prima Se invece volete far tirare di destro dovrete far tirare Se invece volete far tirare un destro non dovrete calzarla di prima E potrete fare una miriade di cose Perché appunto sarete liberi e indisturbati Come ad esempio potete sistemarvi la palla facendo una skill Ma anche solo diminuire la vostra velocità e prepararvi per un tiro a giro come anche un tiro normale Ragazzi spero di essere stato il più chiaro possibile Spero che abbiate capito tutto Ripeto se non avete capito niente vi basterà copiare i movimenti che vi ho fatto vedere Appunto nel vostro schema E poi la cosa appunto sarà fatta Una volta dopo aver fatto lo schema dovrete schiacciare quadrato o x Lo andrete a salvare e sarà disponibile Appunto lo potrete utilizzare dappertutto Nelle partite normali, in stagioni, nell'ultimate team Quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Magari raggiungiamo i 1500 mi piace Fatemi sapere se vi è servito Ragazzi con gli schemi potete creare appunto Potete creare delle azioni magiche proprio E se voi volete farmi vedere dei vostri schemi che funzionano alla grande Non esitate a contattarmi tramite messaggio personale Oppure scriveteli anche nei commenti Quindi ragazzi mi spiace anche se ho fatto questo cambiamento Non vi ho proposto il pink pale Ma dato che mi hanno spostato la partita oggi pomeriggio Non avevo ancora il tempo di farlo Però lo farò domani Quindi ragazzi detto questo io vi saluto e vi dico potente A palaci si sente dal prossimo video Bolla